Ciao Luca, ci chiedono, ma perché mettete il parmigiano nella carbonara? Ciao, noi mettiamo un pizzico di parmigiano nell'uovo della carbonara per non renderla troppo salata, visto che usiamo guanciale d'amatrice e pecorino romano. Quindi il parmigiano ci permette di bilanciare la sapidità e di renderla gustosa, come voi conoscete.